Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova analisi settimanale su DAX con l'Evoluta. Oggi è domenica 16 gennaio e rifacciamo un po' il conto con i cicli. A che punto siamo arrivati della centratura? Abbiamo avuto un secondo ciclo semestrale, T4, che ha fatto un primo mensile qui e ha fatto partire un secondo mensile qui, con dei movimenti delle finte davvero interessanti. A questo punto, il secondo ciclo mensile ha già trovato una fine? È già finito, terminato? Qui può essere stato? Teoricamente sì. Il discorso è sulla centratura anche settimanale. Abbiamo che da qui a qui abbiamo avuto un sette giorni. Da qui a qui abbiamo avuto un altro sette giorni e da questa candela rossa, dal minimo di questa candela rossa a questa, ne abbiamo avuti quattro. Quindi, manca un pezzo, che cosa? Una chiusura con discesa, non soltanto del secondo mensile, ma anche ormai del trimestrale. E come sapete, esattamente come su S&P 500, bisogna avere un settimanale ribassista per chiudere un T3 trimestrale, il primo trimestrale di questo T4 semestrale, che è composto appunto da sottocicli. Al contempo, sull'inverso abbiamo che cosa? Come tempo, da questo massimo siamo rimasti sotto. Qui può aver chiuso un nuovo settimanale? No. Qui può aver chiuso un settimanale? No. No. Ciclo inverso settimanale a U, che parte da massimi, fa minimi e torna su massimi. Siamo arrivati a sette giorni. Si può arrivare serenamente anche a undici, a otto. E dato che manca un settimanale ribassista, si può ipotizzare che come su S&P 500, si provi ad andare sotto questo minimo a 15.724, e che lo si faccia entro almeno due giorni. La chiusura di martedì, oppure mercoledì, giovedì, sapete che si può arrivare a undici giorni. A quel punto vedremo dove saremo arrivati, se il target sarà stato soltanto questo minimo a 15.724, se saremo andati in zona media mobile a 200 periodi o alto. Questo è quanto. Per quanto riguarda la scomposizione, la sottoscomposizione ciclica, anche qui, vedete, non possiamo aver chiuso un quarto t-3 non soltanto così, ma anche un settimanale a 4 t-3, no, assolutamente no. Ne mancano almeno due, almeno ribadisco. Seconda cosa, dallo swing inverso, cioè questo minimo a 15.888, sappiamo che da qua sopra, da questo massimo, è partito non soltanto un t-1, come possiamo ipotizzare, con un solo t-3, inverso ribassista fatto a U, massimi, minimi, massimi. Ma che sta partendo un nuovo settimanale, per cui è possibile che da qui si debba continuare a proseguire parzialmente in discesa per ritornare sotto questo minimo, come detto anche in precedenza. Tutto quadra con l'evoluta madrioska. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splenda domenica. Arrivederci!